ciao allora oggi vi parlo di questo blush della essence questo è il silky touch blush eccolo qui la confezione è un 5 grammi e il colore se riesco è un 20 baby doll dato che come sempre il prodotto è completamente finito qui c'è lo swatch cosa dire di questo blush allora intanto sapete che mi piacciono i colori e leggeri che danno appena appena un tocco di colore e questo è chiaro ok non troppo chiaro mi piace è bello pigmentato quindi ne basta poco poi si sfuma bene ha una buona durata quindi tranquillamente adesso l'ho più che la mattina fino al pomeriggio c'è poi lo posso andare a riapplicare diciamo che tende dopo un paio di ore già a svanire un pochino quindi rifacciamo un attimo il trucco e andiamo a riapplicare anche il blush e non ha problemi non fa macchie tende a svanire ma non a colare quindi va bene quindi scomparirà un po' il colore però non va a fare macchie, chiazze, non cola, perfetto lo trovo a me piace nei colori chiari lo sapete e il fatto che sia leggermente luminoso è carino è carino soprattutto per dare un po' di colore soprattutto in inverno in estate preferisco i colori un pochino più oscuri, più decisi e questo io ve lo consiglio in inverno si e soprattutto per la carna giulle chiara per dare appena un tocco di colore per non fare quei pomelli che a me non piacciono assolutamente e se vi capita provate questi colori che per me sono validi, per me sono davvero validi e se avete fatto questo prodotto fatemi sapere come siete trovate in alternativa ve lo consiglio e spero di essere utile mettete un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale così non perdete le mie attenzioni beauty che sono sempre così veloci e soprattutto i prodotti low cost e accessibili alla prossima, ciao!